Angelo duro, il rissoso. Ebbene, questo è uno dei tanti sogni del buon Angelo. In questo sogno il buon Angelo, per l'appunto, fa il rissoso. Quindi il buon Angelo, dopo che si strafoga, si mette a dormire e sovra le regolette di diventare il rissoso. Quindi si trova nella città, il capoluogo Lombardo di Milano, e proprio in questa bellissima città, per l'appunto, si scontra un po' con tutti. Cerca la rissa, cerca il diverbio, cerca l'alterco, cerca, tra virgolette, lo scontro fisico e o verbale. Insomma, un Angelo duro che si ostina, per l'appunto, a scontrarsi contro la gloria realtà, contro persone che trova, probabilmente persone che non sanno nulla di quello che accadrà di lì a poco. Io sono un duro molto simpatico, molto divertente, molto piacevole, ma soprattutto un Angelo duro che, nella veste di rissoso, sa essere veramente incantevole, molto, molto divertente. Questo Angelo duro mi piace ricordarlo a voi tutti utenti di Youtube, non è avuto veramente un personaggio all'altezza della situazione. Nel rissoso che interpreta Angelo ci mette veramente tutta la capacità che ha nel interpretare alla perfezione questo ruolo. Il rissoso, un personaggio veramente unico nel suo genere, capace di emozionare. E' bello questo servizio perché? Perché è bello vedere qual è la reazione che ciascun personaggio ha davanti a Angelo duro che, per l'appunto, emula colui che cerca la vista. C'è chi la prende sul ridere, c'è chi la prende sullo scherzo, un divertimento, alcuni si accorgono che si tratta effettivamente di Angelo duro, quindi stanno sul ruolo, ma probabilmente ci sono anche quelle persone che non, tra virgolette, accettano, non considerano Angelo duro, oppure addirittura, tra virgolette, vanno a rispondere a tono all'Angelo duro. Grazie ai cari clienti di YouTube, vi ringrazio per il gentile ascolto, di il tuo cuore, iscrivetevi, commentate, Angelo sei veramente un mito, non cambiare mai, sei un ottimo cabartista, anche nei fammi di Mariano e di Lucio Vip sei sempre stato un grande. Complimenti, un saluto a tutti.